Un corre-corre formal davanti nel barrio di Marcena, passando a detenere un uombre con la finalità ora sospettava di accometere un caso di attacco un giorno anteriore. A ieri il team di manutenzione ora in pubblico, accorre dentro a Marcena per un controllo, per cui il veicolo poliziale ha presentato un uombre a bulla lanta, corre due rubai, lagga su Slovna in attrazione. La polizia a mezz'ora sale su tras e ha cominciato con la búsqueda formal di Marcena con la finalità di detenere. Durante la sua vita, ha salato un uombre per un caccio. Da sospettare quel uombre latino ha chiesto di corre due, lagga la polizia di Bicco un giorno anteriore e mezz'ora attacca un dama. A mezz'ora con me, per un'investigazione.